Tra le città medio-grandi del Lazio, Civitavecchia è quella nella quale nel corso dell'anno 2019 la percentuale di nuovi tumori alla vescica è stata la più alta, in calo quelli alla prostata. Tenta di rapinare il bar dell'ospedale, per questo motivo una giovane è stata arrestata dalla polizia ai domiciliari, anche un 25enne gravemente indiziato di estorsione e cessione di sostanze stupefacenti. Il comune di Civitavecchia torna ad assegnare alloggi popolari, con una determina dirigenziale Palazzo del Pincio si prepara la consegna di 14 appartamenti messi a disposizione da Ater. Ha festeggiato 65 anni di attività a Viale Matteotti la merceria Natalini. Dal fondatore Gino alla nipote Melissa resta un punto di riferimento per chi compra stoffe e bottoni. Questa settimana inizieranno i lavori allo stadio Fattori, lo afferma l'assessore ai lavori pubblici Roberto Dottavio, che spiega i motivi del ritardo dell'avvio del cantiere. Buonasera e bentrovati dal TRC Giornale. Tumori dell'apparato respiratorio di quello gastrointestinale della mammella nella media regionale. In salita quello alla vescica e in netto calo quello alla prostata. È la risultanza per quanto riguarda Civitavecchia dall'analisi condotta dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione, attraverso l'osservazione di nuovi casi di tumore segnalati periodicamente dalle diverse aziende sanitarie del territorio laziale. Ascoltiamo. Tra le città medio-grandi del Lazio, Civitavecchia è quella nella quale nel corso dell'anno 2019 la percentuale di nuovi tumori alla vescica è stata la più alta. È quanto si evince andando a verificare nello specifico i dati pubblicati su opensalutelazio.it, il sito gestito dal Dipartimento di Epidemiologia del Sistema Sanitario Regionale, dove risultano pubblicati i consuntivi della situazione sanitaria degli ultimi anni. Per quanto riguarda i casi di cancro più frequenti, viceversa, Civitavecchia si trova nella media regionale. È infatti al terzo posto dopo Roma e Viterbo per l'insorgenza di tumori ai bronchi e al polmone certificati al 10,1% sul totale dei nuovi casi e ugualmente al terzo posto col 15,3% sul totale dopo Rieti e ancora Viterbo per ciò che concerne i nuovi casi di cancro alla mammella. Per quanto riguarda un'altra delle forme tumorali più frequenti, quella al colon retto, con il suo 13,3% sul complessivo, Civitavecchia scende al quarto posto tra le città medio-grandi del Lazio, preceduta nell'ordine da Viterbo, Frosinone e Latina, come detto in premessa con il 9,8% e al primo posto per ciò che concerne i nuovi casi di tumore alla vescica, seguita da Roma che è al 7,4% e da Latina certificata al 7,3%. Sostanzialmente la situazione si presenta dunque diversa rispetto a quanto si poteva presumere, soprattutto riguardo la presunta prevalenza dei casi di tumori alle vie respiratorie. Peraltro ulteriori buone notizie per Civitavecchia arrivano riguardo altri due tipi di cancro, quello alla prostata dove nel bienio 2016-2017 le stesse autorità regionali avevano evidenziato un'incidenza preoccupante e che fortunatamente nel 2019 è praticamente crollata. E quelli ematologici. Per quanto concerne i tumori del sangue, addirittura nel 2019 Civitavecchia con il suo 5,5% è all'ultimo posto tra i centri medio-grandi del Lazio. Viterbo è al 7,6%, Rieti al 7,2%, Roma al 7% e Latina e Frosinone al 6,4%. Due arresti nell'arco di poche ore rispettivamente nei confronti di un uomo e di una donna da parte della Polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Viale della Vittoria a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare dei domiciliari emessa dal GIP nei confronti di un 25enne gravemente indiziato del reato di estorsione e cessione di sostanze stupefacenti. Verso la fine dello scorso anno il giovane avrebbe venduto hashish, marijuana e cocaina ad un cliente per un valore di circa 2.500 euro. L'acquirente non avrebbe saldato subito il debito e per questo avrebbe subito violenze e minacce volte ad ottenere il credito che in pochi giorni sarebbe arrivato a 9.000 euro. Le indagini hanno portato a raccogliere una serie di elementi che hanno permesso alla Procura della stessa di chiedere ed ottenere dal GIP la misura cautelare a carico del 25enne. Nella stessa giornata presso il bar dell'ospedale San Paolo gli agenti che svolgono il servizio di controllo del territorio sono intervenuti per un tentativo di rapina. A loro arrivo hanno trovato una ragazza di 25 anni uscita dal carcere solo poche ore prima con uno sgabello in mano. La ragazza, brandendo lo stesso sgabello, ha minacciato i poliziotti ed avrebbe tentato pochi istanti prima di rapinare il bar. Visto che la rapina non era riuscita avrebbe danneggiato l'interno del locale. La donna è stata sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziata di rapina. Una determina dirigenziale per l'assegnazione di 14 appartamenti di edilizia residenziale pubblica messi a disposizione da Ater è quella firmata nei giorni scorsi e annunciata questa mattina a Palazzo del Pincio dal sindaco Ernesto Tedesco, dall'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli, dal dirigente Giglio Marrani e da Solena Luciani dell'ufficio politiche per la casa. Le case popolari che si trovano per la maggior parte tra via Matteotti, via Antonini, via Betti, via De Santis, via Santa Barbara e via Fiori di Loto vanno a smaltire la graduatoria comunale che conta ben oltre 800 domande. Nei prossimi giorni arriveranno le lettere ai cittadini ai quali gli appartamenti sono stati assegnati che saranno convocati da Ater. L'intervista. Assessore Napoli c'è la decisione da parte del Comune di assegnare questi 14 appartamenti che insieme ai tre che sono essere assegnati a settembre fanno 17. si smaltisce anche se un po' lentamente come lei stessa ha sottolineato la lista delle persone che sono in attesa per ricevere la casa popolare. Sì come sapete c'è stata anche quest'anno una grande richiesta fra aggiornamenti e nuove richieste di appartamenti legate quindi a quelli che sono dei percorsi di grande difficoltà economica e sociale da parte delle nostre famiglie del Comune. Siamo riuscite grazie alla messa a disposizione di appartamenti da parte di Ater a fare dopo le dovute verifiche quella che è l'assegnazione. Quindi c'è una determina dirigenziale firmata dall'Avvocato Marrani che declina quindi l'avvenuta a controllo di quelli che sono il possesso, il permanere del possesso dei requisiti di queste persone, di tutte quelle che sono stati gli altri verifiche da parte della Procura per poter passare all'assegnazione. Sono 14 appartamenti questi che danno sicuramente il respiro a parte della popolazione. Io mi aspetto e mi auguro comunque che possiamo in questo ultimo anno e mezzo che ci rimane almeno di amministrazione di poter avere ulteriori appartamenti e di poter nuovamente riuscire ad alleviare un po' di quelle che sono preoccupazioni e grandi sofferenze da parte delle famiglie. Ulteriori sei sono stati già messi a disposizione, adesso partono le verifiche anche di questi per cercare di accelerare? Sicuramente stiamo cercando di vedere se questi appartamenti che ci sono stati comunicati, ai quali spero si possano sommare anche altri, verificheremo altre situazioni. Quindi speriamo che riusciamo ad assegnare nuovi appartamenti, prima o poi di quello che sarà la stesura di un'ulteriore graduatoria. Questa è la diciottesima e comunque voglio dire queste persone che già erano in graduatoria sappiamo essere famiglie che aspettavano da tempo la risoluzione di questo importante problema. Sarà stabilita nei prossimi giorni la data della giornata di sciopero confermo di tutti i servizi decisa ieri dall'Assemblea dei lavoratori di CSP e AIC, promossa ieri dal sindacato USB private da enti locali. L'annuncio dello sciopero è arrivato direttamente dall'organizzazione sindacale che giudica imbarazzante il comportamento di Civitavecchia Servizi Pubblici che in sei mesi non ha risposto a due richieste di convocazione e alla comunicazione dello Stato di agitazione. Ma ancora peggiore per USB è la negligenza del comune, del sindaco, socio unico e quindi proprietario, protempore della municipalizzata. Ci sembra, commenta il sindacato, di essere tornati a qualche anno fa? Questi comportamenti antisindacali evidenziano una notevole mancanza di rispetto ma soprattutto sintomatici di una situazione non proprio bella per i lavoratori e le lavoratrici e soprattutto per la città. USB ringrazia comunque l'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli che li ha convocati per il 16 marzo per discutere nello specifico della situazione riguardante il solo servizio AEC. E' ancora un mese di tempo, giorno più giorno meno, per l'autorità portuale di Civitavecchia per emanare il bando relativo all'assegnazione del servizio di navettamento dei croceristi del porto. Una gara imposta dalla sentenza del Consiglio di Stato del 10 gennaio scorso che ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia Marittima Medov e che potrebbe avere anche ulteriori conseguenze per l'ente. Ascoltiamo. C'è attesa negli ambienti portuali e non soltanto a livello locale. Per l'emanazione da parte dell'autorità portuale del nuovo bando sul servizio di navettamento dei croceristi deciso dal Consiglio di Stato che il 10 gennaio scorso aveva accolto il ricorso presentato dall'Agenzia Marittima Medov imponendo all'ente di indire una gara pubblica entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza. Quindi Molo Vespucci ha ancora poco più di un mese per pubblicare il nuovo bando ma la sentenza nell'organo di giustizia amministrativa che si è allineato a precedenti pronunciamenti del Tar e alle segnalazioni arrivate negli anni dall'autorità anticorruzione, dalla Corte dei Conti e dall'autorità di regolazione dei trasporti potrebbe avere ulteriori strascichi. Nel dispositivo della settima sezione dell'organo di giustizia amministrativa presieduta dal dottor Claudio Contessa e composta dai consiglieri Fabio Franconiero, Pietro De Bernardinis, Marco Morgantini e Laura Marzano non si prendono solo di mira i diversi provvedimenti assunti a riguardo dall'autorità portuale l'ultimo dei quali poco meno di un anno fa e si intima all'ente di indire la gara pubblica per l'affidamento del servizio gestito da oltre 15 anni da Port Mobility. Si apre anche un ulteriore spiraglio per i ricorrenti, ovvero per la Medov. Lo spiraglio riguarda l'azione risarcitoria avviata dalla stessa agenzia marittima che aveva trovato accoglimento in primo grado dalla giustizia ordinaria ma che era stata respinta invece dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Nel documento numero 317 del 2023 dove è illustrata la sentenza del Consiglio di Stato si legge infatti che il precedente pronunciamento del TAR contro il quale l'autorità portuale aveva presentato ricorso viene confermato con parziale diversa motivazione anche nella parte in cui ha implicitamente respinto l'istanza risarcitoria azionata da Medov che è rimasta enunciata ma sfornita di prova sia nell'Anne sia nel Quantum. Ciò sta a significare che l'Agenzia Marittima ha facoltà specificando meglio i termini temporali e la somma richiesta di continuare a richiedere un risarcimento per il presunto danno subito. La vicenda quindi potrebbe avere anche ripercussioni di carattere economico per l'ente. Anche il nuovo bagno del mercato ha la sua rampa per i disabili. Da ieri Palazzo del Pincio a distanza di due settimane dall'apertura dei nuovi servizi igienici ha provveduto a quello che è un obbligo di legge installando un accesso alla struttura in modo da permettere anche a chi è in carrozzina di utilizzare il WC. Resta secondo i commercianti il problema legato al fatto che nonostante i due ingressi ci sia solo un bagno utilizzabile anche per uomini e donne. Un passo in avanti ma lo scontento rimane. Sono iniziati la scorsa notte sull'autostrada A12. Roma Civitavecchia e lavori di pavimentazione nel tratto compreso tra le uscite di Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud. L'intervento si svolge nelle ore notturne ancora per due giorni a partire da oggi. Dalle 21 alle 6 del mattino la società autostrada ha disposto alla chiusura di entrambi i caselli. In particolare sarà chiusa Civitavecchia Nord in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Tarquinia e della statale Aurelia e sarà chiusa Civitavecchia Sud in uscita per chi proviene da Tarquinia e della statale Aurelia. Autostrade per l'Italia in alternativa consiglia di utilizzare lo svincolo di Civitavecchia Porto sulla statale Aurelia. E' una storia di quelle che non si sentono praticamente più. Stiamo parlando della merceria Natalini, attività commerciale che quest'anno festeggia 65 anni di presenza a Viale Matteotti. Una realtà che nonostante il commercio sempre più globalizzato e rivolto sempre più all'e-commerce continua a rimanere ben salda nell'economia locale grazie al lavoro artigiano e certosino di una famiglia che tramanda l'attività di generazione in generazione. In un periodo nel quale stiamo perdendo pezzi importanti di Civitavecchia, ce n'è uno che va avanti nonostante le innumerevoli difficoltà. Ascoltiamo l'intervista. Paolo Natalini, siamo oggi alla merceria Natalini perché è una ricorrenza speciale, 65 anni di attività, ma come vi diceva prima delle interviste sono anche di più rispetto ai 65 anni. Questa attività nasce veramente nel 1958 con mio padre, però prima di questa attività c'era mio nonno in Via Novazzi, praticamente nel 1947. Diciamo un'attività che si tramanda da padre in figlio. Diciamo che questa attività è un articolo un po' particolare. cerchiamo di andare avanti sempre con novità e cose nuove, sempre aggiornate nel settore praticamente. Il punto di forza praticamente è, prima di tutti, l'umiltà, poi la passione, l'esperienza e poi diciamo qui i clienti si sentono come a casa loro. 65 anni, come detto, è la vostra attività, ma anche di più. Che effetto fa questa situazione? E come è cambiata Civile Vecchia in questi anni? Civile Vecchia è cambiata in parecchio, perché diciamo con attività straniere e pure queste cose qui, certo non è che hanno fatto bene alla nostra attività, perché c'è molta concorrenza. Però andiamo avanti, cerchiamo di essere con la qualità, noi, fare tutte le cose bene, insomma. È un discorso molto importante, questa è un'attività familiare, insomma, conduzione familiare, generazione dopo generazione, quindi è una cosa davvero speciale che vi fa risaltare. Sì, sì, è un'attività che si fa soprattutto familiare e spero di tramandare ai miei figli tutta l'esperienza e tutto quello che ho imparato da mio padre, insomma, che mi ha insegnato. Speriamo domani che continueranno con questo lavoro. Com'è cambiato il mondo del commercio, anche con l'e-commerce che si sta diffondendo in questi anni? Il commercio è un po' cambiato negli anni, soprattutto diciamo con le vendite online. Vorrei portare avanti la tradizione di famiglia. Devo tutto a mio nonno che ha creato questa bellissima, diciamo, tradizione familiare, quindi amore, dedizione al lavoro, costanza, ma soprattutto umiltà, ma anche, diciamo, passione. E' importante anche il concetto di merceria, intesa come merceria moderna, in quanto chi sta da questa parte del bancone non deve essere soltanto un bravo venditore, ma deve anche sapere ascoltare le esigenze del cliente. Noi abbiamo anche molte ragazze che si forniscono da noi, soprattutto dell'Istituto Moda, ma soprattutto anche sempre più ragazzi che si proiettano verso questo futuro e lavori sartoriali. Stare qui non è soltanto, diciamo, un vendere, un buonasera, un arrivederci, ma è creare comunque un rapporto con il cliente, quindi un rapporto di amicizia. E' soddisfare soprattutto le esigenze del cliente, in modo che una porta che esca dal negozio sia comunque soddisfatto, perché anche noi contiamo sulla qualità dei prodotti, quindi diamo varie scelte, varie possibilità di acquistare con i materiali, in modo da soddisfare il cliente. Vicolo Cecov, Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale e Teatro, in tournée in tutta Italia, con diversi spettacoli di improvvisazione teatrale e teatro di testo, torna con due importanti serate. In scena Level Up, il primo spettacolo improvvisato sul multiverso. Level Up è uno spettacolo completamente improvvisato, che immagina cosa succederebbe al nostro universo se potessimo esaudire i nostri desideri e cambiare gli eventi della nostra vita. E' un viaggio tra realtà parallele, dove l'improvvisazione teatrale si metterà a servizio del genere. Scifi per uno spettacolo, dai risultati imprevedibili. L'appuntamento è per domani e sabato alle ore 21, presso il Teatro Vicolo Off, in via Fratelli Cervi 42. La regia è dell'attore ed improvvisatore Roberto Rotondo. E nel giro di poche ore sono arrivate diverse segnalazioni alla nostra redazione, molto importanti riguardo il passaggio dei tir in città. La prima riguarda la zona del villaggio del Fanciullo, nei pressi della parte dove ci sono le telecamere, afferma il cittadino, due tir si sono fermati e poi sono ripartiti impegnando la corsia di sinistra, creando pericolo per le auto provenienti da Santa Marinella e questo sembra sia un'abitudine diffusa tra certi camionisti per eludere le telecamere poste in quel punto. Ho segnalato la questione anche alla polizia locale, l'altra segnalazione invece c'è giunta dalla rotonda in prossimità del varco nord del porto. Molti tir sono posizionati senza una regola, spiega la cittadina, al buio, anche in contromano e creano una strettoia. È una situazione di forte disagio per gli automobilisti ed è pericolosissima. La possibilità di incidenti è veramente altissima, ma è vista una pattuglia che sistemi la situazione. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. E con questo è tutto, termina qui la prima parte del nostro telegiornale, ma restate con noi perché dopo un break pubblicitario torneremo con le notizie sportive. A tra poco! La partenza dei lavori per la risistemazione dello stadio Fattori dovrebbe esserci questa settimana ad affermarlo è l'assessore ai lavori pubblici Roberto Dottavio, che rasserena i cittadini che si erano allarmati dopo aver visto che ancora non è presente il cantiere all'impianto di Via Bandiera. Ma capiamo meglio la situazione in questo servizio. I lavori per la risistemazione dello stadio Fattori dovrebbero partire in settimana. Ad affermarlo è l'assessore ai lavori pubblici Roberto Dottavio, che rassicura agli appassionati di calcio che si erano allarmati nei giorni scorsi, non avendo visto ancora iniziati gli interventi all'impianto di Via Bandiera. È una situazione che sta molto a cuore agli sportivi, più in generale ai cittadini, che non perdono occasione di chiedere in maniera martellante alla nostra redazione, soprattutto in occasione di ogni gara casalinga del Civitavecchia Calcio Altamagnini, se ci sono novità per la riapertura del campo comunale. È proprio l'esponente della Giunta a chiarire i motivi per cui ancora tutto sia fermo. Quando devono partire dei lavori ci sono delle autorizzazioni da chiedere, spiega l'assessore Roberto Dottavio, verificare che ci siano le condizioni per la cantierabilità e per consentire agli operai di stare all'interno del cantiere. Sono tutti concetti burocratici che richiedono un po' di tempo, come dice spesso il sindaco Ernesto Tedesco. Non è per nulla semplice. Mi piacerebbe tanto mettere al mio posto, anche solo per un momento, chi mi contesta e vedere cosa farebbe. Sarebbe bellissimo, mi piacerebbe davvero tanto. Abbiamo provato a contattare anche la ditta appaltatrice che ha vinto il bando, ovvero la Alfredo Laposta Costruzioni SRL di Sora, sia tramite mail che sui propri profili social, per chiedere maggiori informazioni sulla questione, ma purtroppo non abbiamo ricevuto risposta. È comunque l'assessore Dottavio a riferire cosa accadrà per la partenza degli interventi, che avverrà a breve. Per quanto riguarda la situazione dello stadio c'è poco da dire, conclude Dottavio, abbiamo appaltato i lavori a febbraio, il permesso di inizio lavori l'abbiamo concesso a metà del mese, con tutte le rassicurazioni necessarie. Una volta firmato tutto e ordinato i materiali da utilizzare nel cantiere, procederemo alla partenza. Penso che in settimana i lavori per la risistemazione dello stadio dovrebbero cominciare. E proseguiamo parlando di calcio. Bisognerà attendere ancora per capire l'entità dell'infortunio subito domenica scorsa dal capitano del Civitavecchia, Luigi Ruggero. Il forte attaccante ha accusato un problema al ginocchio sul finire del primo tempo della partita del Tamagnini contro il Campus Eur e ha effettuato oggi la visita ortopedica. Domani si saprà se l'infortunio è più o meno grave e per quanto tempo dovrà stare fermo. E tante soddisfazioni per la Mabuni Club al trofeo interregionale Sen che si è svolto a Zagarolo con un gruppo locale che ha dato molte soddisfazioni ai maestri Iacobelli. Simone Conversini, Valerio Rovetto e Mattio Norati sono tornati a casa con un oro. Argento invece per Davide Tosoni, Giada Conversini e Sofia Trabacco. Sono saliti sul podio con un bronzo Lorenzo Miceli e Siria Dominici. Otto atleti ed otto medaglie con conseguenze e soddisfazioni per tutta la Mabuni. E' successo per il Golden Warrior 2023, tradizionale manifestazione organizzata dall'Italia di Massimo Brizzi che si è svolta alla palestra della scuola posata di Campo dell'Oro. Tanti gli atleti provenienti da tutta Italia che si sono dati battaglia sia nella kickboxing che nel pugilato. Bellissimi match nel galà serale con atleti di grande valore. Un grazie a tutta l'organizzazione, afferma Massimo Brizzi e in particolare al nostro delegato allo sport Matteo Iacomelli. Punto di riferimento per lo sport cittadino, ora tutti proiettati verso l'evento più importante dell'anno, ovvero The Best of the Best. E con questo è tutto, termina qui il nostro telegiornale, ma prima di salutarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube ed Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Grazie per l'ascolto e auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.